Abbiamo a cuore il tuo sorriso, questo è l'obiettivo di Vittorio Tarallo del suo studio che nel cuore di Palermo offre ai suoi clienti un servizio innovativo. Appena ho conseguito la laurea ho deciso dell'apertura appunto dello studio mio personale e insieme a me ovviamente la decisione di portare, di affiancare una squadra giovane perché ritengo che anche le competenze, le capacità dei colleghi, delle persone che conosco e di cui mi avvalgo sposano perfettamente la mission, il mio modo di vedere le cose in maniera appunto innovativa, diciamo della nuova generazione dell'odontogliatria, possiamo dire questo. Uno staff dunque giovane e competente che adotta tecnologie mini-invasive con la guida del computer. Si prefigge invece l'obiettivo di garantire la chirurgia mini-invasiva appunto quindi riducendo al minimo i tagli, le suture, i punti e il dolore post-operatorio. Quindi parliamo di progettazioni digitali, studi fatti a monte che ci permettono appunto poi nell'ambito poi dell'operazione di ridurre anche i tempi stessi alla poltrona e quindi il disconforto per il paziente. Tecnologie all'avanguardia che consentono di contribuire a vincere la paura del dentista, che ha però bisogno di un approccio professionale, ma nello stesso tempo consapevole. Sono diversi i trattamenti proposti, si va dall'erdodonzia, ovvero la devitalizzazione del dente allo sbiancamento, dalle faccette all'implantologia, dall'ortodonzia alla cura della parodontite, fino ovviamente all'innesto di protesi dentarie, senza dimenticare l'odontoiatria pediatrica a cui lo studio Tarallo pone grande attenzione. Questo aiuta tantissimo nella misura in cui essere chiari, la chiarezza, il senso ovviamente di trasparenza nei confronti della persona che ovviamente si affida a noi nel momento in cui noi manteniamo la parola data e garantiamo al paziente che avrà le migliori cure possibili. Nel minor tempo possibile, pregando il meno fastidio possibile al paziente, siamo certi di quello che diciamo, lo garantiamo soprattutto, ovviamente poi fa sì che il paziente soddisfatto ci pubblicizzi e resti contento, ovviamente questo per noi è fondamentale.